I poveri e i peccati di omissione verso i poveri, l'indifferenza che utilizziamo verso i poveri, e qui non dobbiamo intendere solo i poveri di cose materiali, ma anche i poveri di spirito, i poveri di interiorità, i poveri che soffrono per mancanza d'amore, i poveri che soffrono perché semmai hanno commesso del male e non riescono a sentire e a sentirsi amati, i poveri che soffrono perché non confidano nella misericordia di Dio e nella bontà degli uomini, i poveri che soffrono perché non riescono a trovare il senso della loro vita, perché non riescono a trovare il modo giusto di amare i propri figli, di amare le proprie moglie e se stessi, eccetera, eccetera. Quindi i poveri ci fanno capire che il peccato il più delle volte non è il male commesso, ma il bene non fatto, e l'abbiamo detto. E dopo questo nostro percorso possiamo chiederci, appunto per fare il nostro discernimento, che qualità ha la mia vita, che qualità ha la mia carità, come io faccio il bene, perché lo faccio? Ed è importante chiederci questo, altrimenti non facciamo e non potremmo fare discernimento. E oggi vorrei chiudere questa parte, appunto, dei compagni di strada, degli strumenti di carità, e non solo di carità, degli strumenti della carità, gli strumenti della cultura, e gli strumenti che abbiamo visto nelle nostre puntate, che ci hanno aiutato a capire e a fare veramente discernimento. Volevo chiudere con una frase, con una piccola riflessione, che prendo dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco un altro testo che potremmo approfondire in questo tempo, ma in particolare il 1829, il numero 1829 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Vedete che cosa dice? La carità ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia. Esige la generosità e la correzione fraterna. E' benevolenza. Suscita la reciprocità. Si dimostra sempre disinteressata e benefica. E' amicizia e comunione. Tutto questo è carità, tutto il resto non è carità. Allora, se io vivo una carità, che mi porta e porta gioia, pace, misericordia, che è generosa, che porta anche alla correzione fraterna, di cui inizieremo a dire qualcosa proprio domani, allora veramente tutto questo è vera carità. Io vi aspetto domani. Parepio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.